E' stata venduta all'asta questa mattina per 142.000 euro la casa dell'imprenditore Silvio Buttiglione, vessato dai debiti con le banche e diventato un caso nazionale sposato dal Movimento 5 Stelle, tanto da mobilitare direttamente Beppe Grillo che arrivò in tribunale a Pescara in occasione della prima udienza. Era il 21 di maggio del 2014. Allora il leader Maximo Pentastellato aveva ventilato a Buttiglione l'ipotesi di una colletta per poter ricomprare la casa ed evitare di lasciarlo in mezzo alla strada, a cui avrebbe partecipato anche lo stesso Grillo, colletta che a detta del Movimento è ferma a 10.000 euro, cifra insufficiente, ma secondo gli esponenti grillini la colletta proseguirà comunque. Sempre Grillo aveva annunciato in quella sede una riforma radicale del sistema di Equitalia per evitare la messa all'asta delle prime abitazioni, un annuncio però che al momento non si è tradotto in legge. Alla fine il giorno della vendita è arrivato a quattro anni esatti dall'incursione pescaresi di Grillo accompagnato da una grandissima folla. Questa mattina in tribunale a Pescara oltre allo stesso Buttiglione c'erano anche la senatrice dei 5 Stelle Gabriella Di Girolamo e il consigliere regionale pentastellato Domenico Pettinari, oltre agli esponenti dei punti di ascolto SOS Equitalia e diversi cittadini che hanno esposto cartelli con la scritta Siamo tutti Silvio Buttiglione. A Grillo mi sento di dire di non promettere una cosa se non sei sicuro di mantenerla, specialmente ad una persona che ha tentato il suicidio e che vive nella disperazione. Questo è il commento dell'ex imprenditore di origini pugliese ma residente a Montesilvano dopo l'asta. Buttiglione ha poi detto di volersi barricare in casa fino a quando la polizia non lo butterà fuori non avendo ormai più nulla da perdere.